Salve amici del Centro Meteo Italiano. Tempo localmente instabile sull'Italia con clima freddo. Vediamo allora nel dettaglio le previsioni per martedì 24 gennaio. Deboli fenomeni al mattino su Alpi Occidentali e Appenino Settentrionale con neve oltre 500-700 metri. Precipitazioni anche su Marche e Sardegna con neve oltre 900 metri. Al pomeriggio deboli piogge su Medio Alto Versante Adriatico. Precipitazioni sparse anche sulle isole maggiori, mentre altrove avremo variabilità asciutta. In serate notate ancora fenomeni sulla pianura padana e neve oltre i 700 metri sull'Appenino Settentrionale. Piogge sparse anche su Sardegna, Sicilia e Calabria. Temperature minime in aumento al nord e in calo al centro-sud. Massime in generale rialzo ovunque. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra App Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.